Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico prevarga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Con tanta tristezza, premette, Francesco pensa al Myanmar, evocando il gesto di Suor Anu Tang, la religiosa della fotosimbolo della feroce repressione delle proteste popolari innescate dal golpe militare del primo febbraio. Ora anche il comitato dei 600.000 monaci buddhisti del paese dice basta a violenze, torture e uccisioni di innocenti, almeno 200 finora. E la Cina, che all'ONU ha posto finora il veto a qualsiasi condanna del golpe, ora invoca misure vigorose da parte del regime in difesa di cittadini e imprese cinesi in Myanmar. Appello lanciato dal Papa all'udienza del mercoledì dopo la catechesi sul fuoco portato da Gesù sulla terra, cioè lo Spirito Santo, l'amore di Dio, senza di esso. Le profezie si spengono, la tristezza soppianta la gioia, l'abitudine sostituisce l'amore, il servizio si trasforma in schiavitù. Francesco si rivolge infine anche al Paraguay, dove con i numeri della pandemia crescono tensioni e malcontento. Con la violenza, sempre autodistruttiva, non si guadagna nulla, si perde molto, a volte tutto, ammonisce il Papa.